Entro una trentina di giorni ci sarà il progetto definitivo. A settembre la gara di appalto. Entro un anno l'Aquila potrà riavere una piazza Duomo riqualificata rispettando l'antico ma proiettandosi al futuro con una rambla di lato per il passeggio come era in passato, con un pavimento che crea delle sedute, delle piante che separano dal resto della piazza, richiami all'antico mercato con gli antichi filari, con illuminazione che ricorderà pure le vittime del terremoto del 2009 contro 109 LED, un arredo che permetterà anche all'uscita del terminal, degli spazi per infopoint e altro, un intervento soft ma che restituirà dignità alla piazza, che toccata da ricostruzione e mezzi pesanti, oggi non è nella sua forma migliore. La piazza avrà agli estremi, i simboli dei quattro quarti. Il progetto è stato presentato da sindaco e vice sindaco all'editorium del parco, assieme ai dirigenti comunali Carugno ed Evangelisti, al titolare dell'USDRA Provenzano. Abbiamo trattato la piazza con la delicatezza e l'importanza che merita un luogo così caro a tutta la città. Abbiamo rispettato la sua vocazione storica, abbiamo fatto un soft restyling, possiamo definirlo così, fatto di arredo urbano, pavimento e illuminazione, però l'abbiamo proiettata nel futuro, quindi ci sarà anche uno spazio, che è lo spazio che hanno tutte le grandi città, una specie di rambla che poi sarà dedicata al passeggio, alla zona commerciale, quindi esaltando la vocazione commerciale. Abbiamo lasciato un ricordo per quello che è il vecchio o l'antico mercato, con un richiamo a terra di quelli che erano gli antichi filari, e poi di notte si trasformerà completamente con 309 led che illumineranno la piazza e ricordo le 309 vittime, perché è importante guardare al futuro ma senza scordare il passato. L'intervento nasce con la collaborazione di soprintendenze USRA. Il progetto di oggi è più la veste di concept. Successivamente sarà presentato più articolato. è interno al comune grazie alla collaborazione di giovani professionisti di Abruz Engineering. La piazza tornerà in piano, senza gradino, mantenendo l'ellisse centrale. La pavimentazione sarà quella originaria in pietra bianca, resistente al clima aquilano. L'illuminazione sarà di tipo diretto sulla piazza, indiretta su elementi di pregio e palazzi. Il progetto prevede anche colonnini a scomparsa senza fili, una predisposizione per il ritorno del mercato eventualmente, per l'allestimento di palchi, per spettacoli o per ospitare artisti di strada. Il progetto costa 7 milioni di euro dei fondi per il progetto per la città pubblica.